Come si è trattato? Più che una proposta di legge, di trasformazione del trattato costituzionale che ammella... Proposta di legge, di modifica della Costituzione? Sì, vabbè, più che modifica, la Costituzione non è una cosa semplice, approviamo questa legge. Vai in doppia elezione, ma la procedura è comunque una modifica. Devi comunque nominare una Costituente per fare una cosa di questo tipo. Allora il Parlamento potrà dire che nominiamo una Costituente, ma siccome noi abbiamo alcuni appunti da fare a questa proposta che peraltro è abbastanza esaustiva e ci trova consensienti sia nella formulazione della proposta quanto nelle premesse che hanno portato a quella formulazione, tra poco faremo un altro video in un luogo più idoneo e più tranquillo in cui noi diremo le nostre ragioni. Per il momento noi ci rimettiamo a fare una considerazione che è questa. Le femministe contro boldracchia, il che ci fa molto piacere. Se la boldracchia nella sua farneticazione è riuscita a fare incazzare, incazzare, potremmo dire un'altra cosa. Incazzare. Invaginare. Ecco, bravo. Allora, invaginare le femministe, la cosa non può che farci piacere. Dopodiché si allode al grandi opriamo. A presto.